Cari telespettatori ben ritornati, siamo in diretta, potete quindi interagire con noi e mandarci naturalmente anche dopo la trasmissione e le mail. Avete visto che ormai da un mesetto circa è aperta la nostra mail diretta tv7convoichiocciolatriveneta.tv però i messaggi arrivano direttamente anche le vostre telefonate. Parliamo e collaboriamo con la CIA di Padova e quindi un capitolo dedicato come sempre a grande richiesta perché vediamo che del settore molti e molti sono interessati all'agricoltura. Facciamo un po' il punto della situazione con i nostri ospiti. Come sempre ci portano interessanti novità, nuovi spunti, nuove prospettive. Vediamo quanto di realizzabile effettivamente c'è stato, c'è e quali sono le opportunità che verranno dall'anno a venire. Poi tiriamo anche un po' le somme, facciamo un po' un bilancio. Vediamo anche se i provvedimenti che sono stati presi con la legge di stabilità possono dare una mano al settore agricolo. quanto viene dall'Europa dovrebbe venire dall'Europa. Insomma vediamo con il Presidente Claudio D'Ascanio, Presidente CIA Padova, ben ritornato qui con noi di fare questo punto della situazione. Supportati da Roberto Betto, candidato alla Presidenza Provinciale Padova, grazie anche a lei. Buongiorno a voi. Quindi fino al 25, 25 sarà la data fatidica di questa assemblea di cui vi terremo aggiornati e con Fabrizio Tognin, altro candidato alla Presidenza Provinciale, anche lei in fermento, quindi un momento di agitazione. Buongiorno. E cercheremo di capire anche con voi e con il Presidente cosa vogliono significare queste elezioni, se ci sarà un passaggio significativo e sembra proprio di sì. E poi Daniela Giarin, ben ritornata, Presidente CIA Padova, Giovani Agricoltori della CIA, che viene tra l'altro da un'esperienza all'estero, dalla Germania. E questo risponde all'interrogativo dei giorni scorsi di alcuni nostri telespettatori che ci chiedevano, vedete che le cose arrivano, agricoltura e estero, paesi che stanno andando avanti, che cosa sta succedendo? Qua la risposta e quindi a lei ci sarà la possibilità di soddisfare le curiosità dei nostri telespettatori. Presidente, allora, vediamo un po' di tirare le somme, di fare un po' un bilancio, di vedere prospettive se ci sono oppure no. Per me, per carattere e prospettive ce ne sono sempre. È chiaro che noi ci misuriamo sulla realtà delle cose. Ora, noi veniamo ormai da un quinquennio di difficoltà complessive, direi mondiali, economiche e anche nazionali, e quindi partiamo da questo punto di partenza. È chiaro che su questo però, devo dire, il mondo agricolo che sta soffrendo insieme a tutti gli altri settori, però può, se ben dirizzato, ben governato, sfruttare delle opportunità che sono presenti. In primis da quello che è un atteggiamento ormai mondiale, è quello di richiedere sempre di più cibo. Ora, essendo l'agricoltura produttrice di cibo, insieme poi a tutto il settore agroalimentare, è evidente che è in un punto fondamentale per quanto riguarda questo. Quindi le prospettive legate al cibo, non è un caso che il prossimo Expo, che si farà a Milano nel 2005, riguarda il tema dell'alimentazione del cibo per tutti. E dell'acqua. Quindi questo è fondamentale. L'agricoltura è nel tema centrale dell'oggi, ma anche del prossimo futuro. Lo è anche nell'ambito di quello che vedo alcune nuove impostazioni anche politiche italiane, in cui si richiede che l'agricoltura possa essere uno degli elementi che può dare una risposta in un momento di crisi. Quindi, enfatizzando maggiormente le nostre qualità, la nostra capacità di fare prodotti che sono graditi, che superano le frontiere e che danno una risposta anche di immagine, oltre che di economia. Questo vale poi soprattutto al nostro interno, perché è il complemento essenziale di tutto il nostro sistema turistico, che tra paesaggio agricolo e tra prodotti di qualità, prodotti tipici, sono un elemento da cui il nostro turismo non può prescindere. Quindi partendo da questo, naturalmente, dobbiamo analizzare i fenomeni macroscopici, quelli negativi. Il primo elemento negativo che noi abbiamo è questo. Noi non abbiamo nessuna difficoltà a produrre, sappiamo farlo in quantità e qualità. Qual è il problema? Che spesso noi, al momento di vendere il nostro prodotto, il prezzo che ci viene pagato è inferiore a quello che a noi ci è costato per produrlo. E per questo come è possibile? Ne abbiamo parlato di questo. È sempre difficile questo, perché noi siamo l'unico settore che non determina il prezzo. Cioè la Fiat decide di costruire la Fiat, la 500, gli costa 19 mila euro, la venderà a 21 mila euro, perché dentro poi ci mette tutto quello che da. Noi no, ci costa 19 mila o 19 centesimi, possiamo trovare anche in periodo che ce lo pagano 0,5 centesimi quello stesso prodotto. Perché è il mercato, si dice, la domanda e l'offerta che fa. In realtà abbiamo scoperto che non è vero, perché spesso ci sono anche grosse speculazioni, filiere contorte. Questo è il vecchio problema, l'abbiamo con lei, l'abbiamo parlato diverse volte. È questo meccanismo contorto che alla fine si scarica in genere sul primo soggetto, che è il produttore agricolo, e sull'ultimo che è il consumatore. Questo è un altro elemento fondamentale a cui noi dobbiamo mettere il massimo dell'attenzione, perché limita fortemente la capacità di resistenza di un'azienda agricola. Nessuno può pensare di svilupparsi producendo bene e tanto, e alla fine dell'anno non avere il giusto reddito. Questo è un po' l'elemento su cui noi... Ma dall'Europa non arrivano degli aiuti significativi e importanti? Si dice che addirittura sia il settore che ne ha tratto maggior giovamento, forse anche per le modalità più accessibili, più semplificate rispetto ad altri ambiti che non riescono a fruire di questi benefici, o no? Ha introdotto un argomento complesso. Allora, l'agricoltura è il vero settore europeo, perché ha una politica europea da 62. Nessuno ce l'ha. In questi anni, indubbiamente, l'Europa ha avuto un ruolo fondamentale per il cambiamento e lo sviluppo dell'agricoltura. Cambiando nel tempo il suo modo di rapportarsi. Noi siamo passati dalla fase iniziale in cui si faceva l'agricoltura e l'Europa ci chiedeva di garantire sicurezza alimentare. Cioè, l'Europa doveva essere autosufficiente dal punto di vista dell'alimentazione. Questo era lo scopo iniziale. Per questo, in qualche maniera, entrava non tanto dando soldi agli agricoltori, ma entrando sui prezzi garantiti, sui mercati. Questo poi ha creato delle distorsioni, perché c'è stata delle eccedenze e si è cambiato. Oggi si ragiona di più, si dà una sovvenzione agli agricoltori perché cambiano il loro modo di produrre, perché innovino, perché facciano sempre più e meglio. Sia come investimenti, sia come un reddito, diciamo, molto limitato che viene affiancato alla loro capacità di produrre. Che però è slegata. Non sono più legati produzione e sovvenzione. Questo ci serve per mantenere l'agricoltura viva in Europa, che fa non solo produzione, ma fa ambiente, fa sicurezza, fa clima, fa tutela del benessere. Tutta una serie di cose che deve fare per poter essere assistita. Poi c'è un altro problema, che l'agricoltura in questi anni si è sviluppata insieme all'Europa. Ormai siamo 550 milioni di europei che fanno anche agricoltura. e quindi questa somma, che una volta era importante per i pochi paesi europei, oggi deve essere distribuita tra tanti e quindi diventa meno importante. Però, indubbiamente, nell'ambito di quelli che sono i finanziamenti possibili, per un settore l'Europa contribuisce in maniera interessante sull'agricoltura. Cosa ne dice lei? Chiedo a entrambi voi candidati di Scorso Europa, concretamente. che il Presidente ha ben esposto alcuni temi in modo molto chiaro. E il vostro punto di vista qual è? Ormai il passo importante del passaggio in Europa, tanti dicono anche quelli dei Forconi, vogliamo ritornare alla lira, ma sono cose che non sono... Oppure vogliamo uscire dall'Europa addirittura. Vogliamo uscire, però credo che sono solo chiacchiere, ormai il gioco è fatto, ma non è fatto, è fatto anche nella maniera giusta per raggiungere degli obiettivi. L'importante è che le regole, specie nel nostro settore agricolo, fossero uguali anche negli altri paesi comunitari, perché alla fine se noi abbiamo un costo di vita, un costo di produzione a determinati livelli, ci impongono determinate regole, mentre gli altri magari non le rispettano, logicamente noi non siamo competitivi. La competitività è una cosa che deprezza anche il nostro prodotto alla fine. Alla fine te giri per il mondo e tutti dicono l'Italia, l'Italia, l'Italia effettivamente ha insegnato a vivere il mondo intero. Oggi è quasi discreditata dal suo potere, dalla sua qualità, da quello che riesce a mettere nel mercato, rispettando anche le regole, perché oggi noi rispettiamo le regole europee e alla fine siamo schiacciati da una burocrazia di carte e quant'altro e se sgarri e sbagli un attimo, cioè non ti è permesso nessun errore. Ti portano al tracollo perché le multe e quant'altro in cui te cerchi di essere rispettoso e rispettare le regole, alla fine non è mai sufficiente. La burocrazia e tutti quegli enti, le istituzioni che vogliono far rispettare queste regole quasi se ne approfittano della nostra bontà nel settore, diciamo. Assolutamente. Lei cosa ne dice? E poi sappiamo, c'è anche chi dice non sappiamo farci rispettare, sottolineando il settore agricolo e anche il settore artigianale che ne sta risentendo. Sì. E quindi il famoso made in. Molto probabilmente c'è una differenza di regola all'interno della comunità europea, perché noi, come ha già detto il mio collega, dobbiamo rispettare delle regole diverse sulla produzione. Non è accettabile, per me che sono un produttore anche di cereali, che mi si venga a dire che il grano rumeno o dall'altra parte sia migliore del nostro. Ah, perché viene detto questo? Sì. Migliore del nostro perché? Ma come può essere migliore? Ma loro fanno gli stessi trattamenti che facciamo noi oppure possono esercitare sulla cultura altri prodotti che da noi invece sono proibiti? Non può essere che noi, l'Italia, che ha la qualità, che è il fiore all'occhiello, cioè abbiamo i prodotti migliori d'Europa, vorrei dire anche del mondo, si possa trovare di fronte a una speculazione, io la ritengo una speculazione, di prodotti importati, ma non sappiamo con che regole sono stati coltivati. Non abbiamo gli stessi parametri di coltivazione a livello anticritocamico, diserbanti o quant'altro. Non può essere che noi abbiamo dei costi superiori se siamo nella stessa Europa. Rispetto ad altri paesi. Rispetto ad altri paesi. Ma allora ci sappiamo rispettare oppure no? Ci sappiamo rispettare, questa è una volontà politica da parte di chi ci amministra, perché in ogni caso chi è a Bruxelles... Chi andrà a Bruxelles. Chi andrà a Bruxelles e chi è il nostro portavoce politico, vuol dire che sicuramente qualcosa gli sarà sfuggito, o quantomeno non è riuscito ad imporsi in questa realtà. Perché l'Italia, come ripeto, non è come altri paesi, tipo la Grecia, che praticamente è limitata al turismo e non ha una grossissima... L'Italia produce, è una nazione che produce al turismo. È la più bella d'Italia. È da millenni che era una terra di conquista, perché tutti la vedevano nella posizione più ideale e naturalmente lo vediamo anche nelle produzioni che noi facciamo, ma ci sofisticano, ci vogliono... Ci devono una vita complicata. Poi ci imitano i prodotti all'estero. E noi non sappiamo tutelarli, questo è un altro problema. Questo è un problema politico, secondo me. Dopo sentiamo anche il Presidente. E cosa ne dice la nostra giovane imprenditrice, che tra l'altro c'è stata in una bella rappresentanza europea, un bel colosso, che fa invece sentire chiaramente la propria voce? Sì, io credo che in Italia, il Made in Italy e la cartolina Italia, che sono comunque dati grazie all'agricoltura, possono risollevare l'economia italiana. Il problema è che non abbiamo, appunto, come si diceva, una rappresentanza forte che a livello europeo possa farci valere, far sostenere quelli che sono le nostre qualità. E quindi questo va a influire anche poi su quello che poi è l'illegalità e tutti i prodotti contraffatti che vengono appunto copiati dalla nostra agricoltura. Come viene visto dalla Germania, per esempio? Il nostro paese? In Germania la cosa è ben diversa. Quello che ho potuto vedere io è che l'agricoltura lì è proprio considerata il settore primario, nel senso che portano un grande rispetto per questo settore, proprio perché è, almeno nel nord della Germania, la maggior parte della gente sono agricoltori. Quindi è molto sentito, molto considerato. C'è molta sensibilità anche verso il biologico, un consumo. Io ho lavorato io stesso in un'azienda biologica con 90 dipendenti, quindi in realtà anche molto grandi. hanno una mentalità che parte per il rispetto della natura, per i prodotti made in Germany, in questo caso. e sì, l'agricoltura è vista in un modo diverso, anche per gli imprenditori stessi c'è molta più agevolazione nel senso di burocrazia, meno carte, la fiscalità non è come da noi, ma lì c'è anche un sistema diverso nel senso della mentalità. È proprio fatta nel... perché la gente lavora, lavora nel modo giusto, lavora bene, correttamente, e poi anche i servizi e quello che se ne ricava dopo rispondono a questo. Beh, Presidente, è molto interessante quanto ne è emerso, perché tra l'altro sono due cose che, da un lato, direi non abbiamo una rappresentanza forte, perché è una serie di situazioni che tutti voi conoscete, che portano a burocrazia eccessiva, ma poi ha detto che il lavoro non è il modo giusto. E qui si ricollega un po' a tutte le situazioni, no? Infatti, quello, secondo me, quando noi parliamo di come siamo visti, come possiamo contare, io credo che ci sono, in questa dinamica ci sono due cose, cioè quello che noi dobbiamo far vedere fuori, sia come rappresentanza politica, ma quello anche che dobbiamo far vedere come soggetti che si propongono. Nel senso che, mi spiego meglio, noi dobbiamo essere anche credibili e quindi coerenti con quello che rivendichiamo. Noi spesso siamo stati un po' tacciati come i furbi. Ah, è bravissimo. Quello che c'è, cioè i furbi. Quelli che cercano sempre di... Facciamo sempre, eh sì. No, è chiaro, paesi come la Germania e altri paesi del nord che fanno della sobrietà, del rispetto delle regole, del rispetto della dignità del lavoro, o comunque sempre, naturalmente il momento in cui sei in difficoltà non sono così aperti e disponibili, perché ti misurano per quello che tu fai. Quindi, intanto, noi siamo convinti che facciamo le cose bene e dobbiamo pretendere rispetto per questo. Dobbiamo naturalmente evitare di avere atteggiamenti, diciamo, falsi, perché questo è fondamentale. Dopo il nostro grosso handicap è che noi, quando andiamo in Europa, lo diciamo sempre, ci andiamo col minor peso specifico possibile. Cioè, mentre la Francia ci va col Presidente della Repubblica o la Merkel va direttamente, noi ci andiamo con un ministro, se ci va bene, che spesso non conoscono, perché due o tre mesi prima era un altro e due o tre mesi prima era un altro ancora. Noi abbiamo cambiato negli ultimi anni non so quanti ministri dell'agricoltura, per cui non neanche se li ricordano quando uno va là. È sempre una cosa nuova. Ora, in un mondo dove conta la mediazione, contano i rapporti, trovarsi, stringersi la mano, fare le cose insieme, costruire un cartello, costruire un gruppo, fare le mediazioni, così l'Europa, siamo a 28, arriveremo a 32 in breve futuro. Tu devi mettere insieme le nostre giuste ragioni, rivendicazioni, con le ragioni anche degli altri, perché poi la fine questo è. Noi abbiamo la fortuna di essere tra i primi sei paesi che hanno costituito l'Europa e quindi costituenti, però dobbiamo continuare con il lavoro e con l'esempio. Io mi auguro che stiamo prendendo finalmente questa strada anche noi, quindi riguardiamoci un po' come sistema paese, più sobrietà. L'agricoltura non ha bisogno di questo perché è da sempre un settore sobrio nei modi, nel modo di vivere, quindi gli agricoltori da questo punto di vista sono un esempio. Almeno qui da noi, perché dopo nel sud non si naviga in altre regioni. Non lo so, adesso io parlo per quello che conosco. Certo, non a noi fatti assolutamente. Posso dire. No, no, chiarissimo. Allora, torniamo anche su questi discorsi, poi naturalmente li andiamo ad ampliare subito dopo la pubblicità, tra poco.